Nel Cilento un nuovo circolo di legambiente. È in programma per questo pomeriggio infatti l'inaugurazione del circolo Ansel Keys che aprirà le sue porte a Torchiara. L'appuntamento prenderà il via alle 18 presso il palazzo Baronale dei Concili con la presentazione e la festa del tesseramento del circolo. L'incontro sarà coordinato da Valerio Calabrese, responsabile agricoltura di legambiente Campania e direttore dell'ecomuseo della dieta mediterranea di Pioppi e sarà introdotto da Adriano Maria Guida, presidente del circolo. Porteranno i saluti il primo cittadino di Torchiara, Massimo Farro, il presidente dell'Unione dei Comuni Alto Cilento Franco Alfieri, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Elburni, Tommaso Pellegrino e Michele Buonomo, presidente legambiente Campania. Concluderà l'incontro il presidente nazionale di legambiente Rossella Muroni alla sua prima uscita pubblica dopo l'elezione. A seguire si terrà il taglio del nastro della nuova sede, lo spettacolo musicale di Angelo Loia e un aperitivo realizzato grazie al contributo dei ragazzi dell'istituto alberghiero Ansel Kiss di Castelnuovo Cilento. Se avvera un sogno, ha spiegato Adriano Guida, presidente del neonato circolo, un sogno per il quale abbiamo combattuto tanto. Il gruppo di legambiente è formato da molti giovani ricchi di speranza e di voglia di fare.